Procede la concreta attuazione del progetto Palermo Sicura dell'amministrazione comunale con nuovi modi di offrire servizi alla cittadinanza, ponendo al centro la salute, la sicurezza e il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi collettivi. Così ha commentato il sindaco di Palermo, Leluco Orlando, a seguito del provvedimento stabilito dall'Aggiunta Comunale, obiettivo quello di promuovere lo sport come strumento di socialità e di riqualificazione urbana, mettendo a disposizione le aree verdi e gli spazi pubblici per lo svolgimento di attività sportive e motori all'aperto. I gestori di palestre, centri fitness e di danza, associazioni e società sportive operanti sul territorio del Comune di Palermo potranno utilizzare per lo svolgimento di attività sportive in forma organizzata gli spazi opportunamente dimensionati all'interno di alcune aree verdi cittadine. Le aree verdi individuate per questo scopo sono il Campo Stacoli, sito all'interno della Parco della Favorita, con campo in erba e in sabbia, il Parco Tindari nel quartiere di Borgo Nuovo e il Giardino Pubblico tra Via Antilope, Via Amico Gerace e Via Guido Rossa a Bonagia. Sarà pubblicato al più presto un avviso rivolto ai gestori interessati per autorizzare lo svolgimento dell'attività sportiva all'aperto nelle aree verdi comunali individuate. Gli organismi sportivi autorizzati saranno responsabili durante l'esercizio dell'attività sportiva del rispetto delle misure di sicurezza e dovranno dotarsi di tutti i dispositivi e strumenti previsti per lo svolgimento delle attività. Una giornata importante per lo sport palermitano, ha affermato l'assessore alla ramo Paolo Petralia, un segnale di rinascita e un messaggio di coraggio a tutti i cittadini palermitani, sia al distanziamento fisico per la salvaguardia della salute, senza però intaccare la socialità che è il perno di ogni comunità sana. L'atto dell'Aggiunta, detto il Presidente della Commissione Consiliare Sport, Francesco Bertolino, ha una forte rilevanza nel messaggio che viene lanciato alla città. Un'amministrazione che tende la mano alle tante realtà sportive presenti nel territorio in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo dopo mesi di chiusura forzata.